Quest'anno con la presentazione della nuova serie 10 delle schede grafiche Nvidia con architettura Pascal, la missione è stata quella di colmare il più possibile il divario tra le prestazioni dei più blasonati PC desktop e i notebook da gaming, quest'ultimo un settore che all'interno del mercato sta crescendo in maniera veramente esponenziale. MSI ha colto la palla al balzo per aggiornare la propria gamma di notebook da gaming presentando diverse soluzioni ognuna di esse però che fa della propria missione la possibilità di giocare con le massime prestazioni ai massimi livelli senza per questo dover per forza fare riferimento a un desktop, anzi la possibilità di un gaming con le dovute limitazioni ma comunque in portatilità. E questo è il caso del prodotto che abbiamo provato in questi giorni che è il nuovo MSI GT62 VR Dominator. Come dice il nome stesso del prodotto si tratta di un notebook da gaming VR Ready grazie appunto all'integrazione della nuova scheda video Nvidia GTX 1070, vale a dire il semi top di gamma della nuova linea serie 10, infatti il top di gamma, come top di gamma stiamo parlando comunque della GTX 1080 ma che riesce comunque in grado di garantire delle prestazioni da gaming davvero ottime ma di cui parleremo più specificamente in seguito. Per il resto è un notebook che anche a livello di design è abbastanza sobrio, naturalmente riprende le linee decise di un qualsiasi altro notebook da gaming ma senza scadere nell'esagerazione che abbiamo visto in alcuni modelli presentati sia da MSI sia da altri competitor negli ultimi mesi. Questo comunque è un notebook che permette di essere utilizzato e che risulta piacevole sia per le esigenze di un videogiocatore sia per delle esigenze per un utilizzo più di base come per la navigazione, il video, il photo editing o comunque la scrittura con questo laptop. A livello di hardware assolutamente il GT62 VR non scende a compromessi e accompagnato alla GTX 1070 troviamo una CPU Intel Core i7-6700HQ quindi vale a dire generazione Skylake da 2,6 GHz, overclockabili comodamente tramite il Dragon Center quindi via software fino a 3,2 GHz per cui anche in questo senso troviamo un overclocking molto comodo supportato appunto dalla presenza del Dragon Center DMSI che garantisce quindi uno switch immediato tra le diverse modalità di prestazioni di performance appunto di questo notebook. Completano la disamina a livello hardware 16 GB di RAM una doppia soluzione per lo spazio di archiviazione con un SSD M.2 da 256 GB e un HDD da 1 TB per poter appunto archiviare file più grossi o per poter installare software di dimensioni eccessive che potrebbe pesare appunto eccessivamente sull'SSD. Per quanto riguarda invece le altre caratteristiche troviamo un monitor da 15 pollici con risoluzione solamente full HD ma con all'interno la presenza della tecnologia G-Sync che permetterà quindi di garantire una fluidità di gioco ancora più alta senza per questo pesare sull'hardware interno. È comunque un display estremamente bello per quanto riguarda sia il contrasto sia la luminosità che permette quindi anche di essere utilizzato tranquillamente alla luce del sole. La tastiera RGB di SteelSeries con retroilluminazione personalizzabile pur essendo comunque una tastiera a membrana ha un feedback davvero ottimo che si accompagna a un trackpad comunque sufficiente nella media come ne abbiamo già trovati tanti altri su notebook anche di livello inferiore. A livello di periferiche troviamo dei connettori audio sia per input che output per microfono, cuffie o linee esterne, 4 porte USB, 3 porte 3.0, una 2.0 probabilmente per il collegamento ad esempio del mouse e una Type-C sul retro insieme a una mini display port e una porta, un connettore HDMI per un output video fino a 4K a 60 Hz. Dicevamo appunto parlando di prestazioni. A livello di prestazioni per quanto riguarda l'autonomia ricordiamoci che stiamo parlando di un notebook da gaming con un determinato hardware, un hardware di altissimo livello al suo interno per cui questo GT62VR non fa proprio dell'autonomia al suo cavallo di battaglia. Nonostante questo anche in questo caso a livello di ottimizzazione software possiamo aumentare notevolmente l'autonomia della batteria fino a circa 5 ore per un utilizzo di base e per circa un'ora e mezza durante il gaming, naturalmente giocando anche sulle impostazioni di luminosità dello schermo e sulle impostazioni grafiche per diminuire il carico appunto sulla scheda video e sul nostro processore. Parlavamo appunto di un notebook da gaming per cui come si comporta il GT62VR a livello di performance durante il gaming? In questo caso noi siamo rimasti estremamente stupiti in positivo in quanto la maggior parte dei titoli che abbiamo testato ci ha garantito un frame rate di 60 fps granitici sia alle impostazioni alte ma soprattutto alle impostazioni più elevate, vale a dire a livelli grafici il cosiddetto livello ultra, sia per quanto riguarda il dettaglio delle texture, sia per quanto riguarda tutti i vari effetti di post processing come filtri anti-aliasing di livello superiore all'FXAA piuttosto che determinate impostazioni. Ad esempio nel caso di Rise of the Tomb Raider abbiamo potuto diminuire alcune piccole impostazioni per poter anche attivare il Pure Hair a dettagli molto più alti garantendo comunque una stabilità di gioco totale. Naturalmente la fluidità viene garantita per giochi meglio ottimizzati come nel caso di Overwatch o come nel caso di Star Wars Battlefront che ci hanno garantito appunto risultati perfetti alle massime impostazioni. Qualche piccolo singhiozzo invece l'abbiamo visto per quanto riguarda la gestione delle performance di questa GTX 1070 a carichi massimi e soprattutto in presenza di filtri di post processing molto più elevati. Abbiamo citato il caso di Rise of the Tomb Raider che in ambiente chiuso ci ha sempre garantito i 60 fps anche a impostazioni massime ma che una volta raggiunto l'ambiente esterno con la fisica avanzata, un numero di nemici molto più elevato e le condizioni atmosferiche variabili abbiamo visto qualche primo singhiozzo che comunque non ha fatto scendere il frame rate di gioco al di sotto dei 40-45 fps per cui stiamo comunque parlando di un titolo estremamente giocabile anche a questo tipo di impostazioni. Nonostante questo è bastato regolare qualche filtro supplementare che comunque data la buonissima qualità del display non ci ha fatto sentire la mancanza e raggiungendo appunto i 60 fps giocando un po' su queste piccole impostazioni. Lo stesso risultato l'abbiamo ottenuto anche con altri titoli più dispendiosi come nel caso di Quantum Break che ricordiamoci al lancio non è stato certo lodato per la sua buona ottimizzazione su PC. Nonostante questo l'MSI GT62VR è un notebook che non ci ha fatto assolutamente rimpiangere il divario con i più blasonati PC desktop offrendo delle prestazioni assolutamente al top all'interno di dimensioni estremamente compatte. Naturalmente queste performance, questo livello di prestazioni ha un prezzo ed è un prezzo tutt'altro che indifferente. Infatti per portarsi a casa un MSI GT62VR è comunque necessaria una spesa tra i 2100 e i 2300 euro. Però per chi cercasse appunto le prestazioni al top in fatto di gaming, il supporto al VR garantito dall'architettura Pascal e dalla GTX 1070 integrata all'interno, questo è un notebook assolutamente da tenere in considerazione soprattutto appunto per la sua comodità in termini di trasporto, in termini di portatilità. Questa era la nostra recensione dell'MSI GT62VR Dominator. Per tutti gli approfondimenti io vi rimando alla nostra recensione testuale di cui vi lascio il link qui in basso in descrizione. Continuate a seguirci, iscrivetevi al nostro canale, commentate con tutte le vostre considerazioni, i vostri dubbi sulla nostra recensione e naturalmente non dimenticate di seguirci anche su tutti i nostri canali social Facebook e Twitter, anche di questi potete trovare i link qui in basso in descrizione. Detto questo noi ci vediamo alla prossima dal buon parra per ribo.com, un salutone a tutti.